salve a tutti oggi sono qui per presentare alcune riflessioni di carattere didattico ma evidentemente anche pedagogico riguardo la didattica a distanza non di per sé alla didattica a distanza rispetto agli strumenti i modi eccetera ma proprio per proporre una base di riflessione che poi potrà essere utile a tutti i colleghi docenti per sviluppare al meglio i propri percorsi di insegnamento apprendimento nella dad cominciamo a vedere questa slide il triangolo della didattica allora in questo in questo video parlerò proprio del triangolo della didattica vedete ho messo lì didattica a distanza perché un po come ho anticipato è così è il punto di riferimento di questo momento per l'attività di moltissimi insegnanti sotto inserito i due volumi che ho scritto negli ultimi anni congiunti scuola quello sulla classe capovolta e quello sulla valutazione sui compiti di realtà eccetera perché credo che in entrambi questi volumi si possano trovare molti riferimenti a quello che vi dirò e comunque possiamo adattare le proposte al loro interno a ciò che vedremo io so che molti di voi già dispongono di questi libri e quindi potranno sicuramente andarli a rivedere rispetto alle proposte che formulerò oggi e chi è eventualmente interessato potrà anche deciderli di acquistarli ma non pensiate che stia cercando di farmi pubblicità perché io ho già ceduto i diritti d'autore e quindi anche se giunti scuola ne vende più copie sono sicuramente felice ma non me ne viene assolutamente nulla allora cominciamo il nostro viaggio rispetto al triangolo della didattica partendo da una riflessione allora questa costruzione questa idea si è sviluppata ampiamente all'interno della didattica della matematica ma non solo evidentemente c'è questa grandissima scuola di ricerca francese in didattica della matematica dove Guy Brousseau e Yves Shevaillard sono i due maggiori esponenti e come sono venuto io a conoscenza di questa scuola e di questi personaggi che hanno sviluppato delle ricerche delle riflessioni così interessanti nel campo della didattica ne sono venuto a conoscenza grazie ai miei tre professori di matematica e didattica della matematica all'università che erano Bruno D'Amore, Marta Isabel Fandigno Piniglia e Silvia Sbaragli e con loro abbiamo costruito una grandissima amicizia negli anni collaboro con loro nell'organizzazione del convegno nazionale di matematica che tutti gli anni si tiene a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e con loro faccio parte di gruppi di ricerca che fanno riferimento all'università di Bologna piuttosto che alla SUPSI dell'università di Locarno in Svizzera. Quindi diciamo è un gruppo sicuramente di docenti davvero competenti che mi hanno permesso di conoscere tutte le cose che oggi vi presenterò in maniera un po' sintetica rispetto al triangolo della didattica. Naturalmente questo video non potrà essere esaustivo dell'argomento altrimenti avrei dovuto preparare un video non lo so di 20 ore. Quindi questo è l'invito che vi faccio. Guardate questo video, prendete gli spunti che da esso provengono e poi se vi interessano gli argomenti che accenno fate delle ricerche in internet. Cercate proprio Bruno D'Amore, Marta Isabel Fandigno Piniglia, Silvia Sbaragli e cercate i loro testi, i loro libri ma potrete trovare anche tantissime risorse gratuite come articoli, monografie eccetera. Quindi ad esempio scrivendo semplicemente Bruno D'Amore triangolo della didattica troverete dei materiali piuttosto che il contratto didattico, piuttosto che la trasposizione didattica di cui vi parlerò anche in questo video e che deriva sempre appunto da questo grande ambito della ricerca della didattica della matematica e questa traduzione, questa conversione di ricerche mondiali per l'Italia a cura di questi tre straordinari professori. E allora partiamo, entriamo un po' proprio nell'argomento. Il triangolo della didattica. Rispetto alla didattica della matematica, lo so che fa un po' sorridere dato che parliamo di matematica e parliamo di triangolo, probabilmente è forse anche per questo che è nata questa idea. Ma se la andiamo a esplorare in maniera un po' più profonda, partiamo da questa domanda. Cosa si nasconde dietro il triangolo che ha come vertici allievo, insegnante e sapere? Vedete, il triangolo allievo, insegnante e sapere. I tre vertici sono caratterizzati, diciamo, da questi tre gruppi di riferimento, ma quali sono le relazioni che intercorrono tra loro? Come questo triangolo della didattica ci aiuta a capire tanti aspetti legati all'agire dell'insegnante, a come l'insegnante si può e si dovrebbe muovere per ottenere il massimo risultato, per fare in modo cioè che i propri allievi apprendano davvero in profondità. Allora, cominciamo da un'infarinatura, così un po' a maglie larghe, per vedere quale definizione, quali, diciamo, punti sono stati evidenziati rispetto a sapere, allievo e insegnante. Il sapere viene definito il polo ontologico, che riguarda l'insieme dei concetti e delle possibili relazioni tra i concetti, o epistemologico, che riguarda la teoria e il metodo della conoscenza, quindi un sapere fatto di concetti, fatto di contenuti, ma fatto anche della teoria e del metodo relativo alla conoscenza. Abbiamo l'allievo, che è definito il polo genetico o psicologico, che fa riferimento a competenze, convenzioni, attese, caratteristiche e stile cognitivo dell'allievo. Quindi l'allievo presenta delle enormi complessità di cui è giusto saper tenere conto. L'insegnante, che è chiamato polo funzionale o pedagogico, che fa riferimento al ruolo, al linguaggio, alle convinzioni dell'insegnante, tutto ciò che noi insegnanti portiamo dentro di noi, è ciò che poi trasponiamo nella nostra azione didattica. Se io sono convinto che una teoria matematica sia più efficace di un'altra, presenterò quella teoria matematica e non l'altra. Quindi le mie convinzioni, le mie conoscenze, tutto ciò di cui io dispongo, sono tutti elementi che entrano fortemente in gioco nel momento del mio insegnamento, della mia azione didattica. La consapevolezza del docente sul proprio mestiere, l'influenza degli studi, delle ricerche sul proprio lavoro. Noi siamo in continua formazione, in costante aggiornamento, ogni anno. E tutti questi aggiornamenti, tutti questi studi, queste conoscenze, gli studi che abbiamo compiuto nel passato, ma anche quelli che ci troviamo ad affrontare perché vogliamo sviluppare un tema da proporre ai ragazzi, da proporre ai bambini, alla classe, sono tutte attività che contribuiscono a modificare radicalmente il nostro io, il nostro essere insegnante. E quindi il nostro essere insegnante non è statico, è un essere insegnante dinamico che va così a rimodellarsi in funzione delle esperienze, delle conoscenze, delle prove che nella vita si affrontano. Ogni lato del nostro triangolo della didattica rappresenta una relazione tra due poli. Se dovessimo usare un verbo per definire ogni relazione, useremo molto probabilmente i verbi che vedete qui sullo schermo. Allora partiamo da allievo e sapere, quindi tra allievo e sapere su questo lato c'è questa relazione dell'apprendere. Questo è piuttosto chiaro perché l'allievo si rivolge al sapere nel tentativo, insomma nella modalità di chi è disposto ad accogliere il sapere e quindi ad apprendere. Tra insegnante e sapere intercorre la relazione posta sul lato che è insegnare. Ma questa parola insegnare porta dentro di sé tutto quello che abbiamo visto prima, le esperienze dell'insegnante, la sua cultura, le sue credenze e così via. Quindi l'insegnante nella relazione col sapere viene così individuato dal verbo insegnare, ma dobbiamo capire un po' questo insegnare come dovrebbe avvenire per essere più funzionale, per raggiungere il suo massimo scopo. E alla fine possiamo anche vedere come l'insegnante e l'allievo sono collegati da questo lato e il verbo che è stato posto per definire questa relazione è il verbo animare, ma su questo vi darò degli spunti tra poco. Sempre in relazione ai lati del triangolo della didattica proviamo a entrare un po' più nel merito del significato dei tre verbi che abbiamo individuato per definire le relazioni tra i tre vertici e quindi partiamo proprio dall'apprendere, cioè dalla relazione tra allievo e sapere. Su questo lato hanno un peso notevole il curriculum e le convinzioni dell'insegnante. Vedete che cosa paradossale? Cioè noi stiamo ragionando sulla relazione tra allievo e sapere, eppure in questo ha un fortissimo impatto il curriculum dell'insegnante, cioè le credenze, le conoscenze, i modi di saper insegnare dell'insegnante. È straordinario se ci pensate, perché stiamo parlando di una relazione tra due elementi, allievo e sapere, e vediamo che ciò che realmente condiziona maggiormente questa relazione è proprio il ruolo dell'insegnante. Ed è qui forse che dobbiamo cominciare a capire l'importanza strategica del ruolo dell'insegnante, che non può essere solo il ruolo di chi assegna pagine da leggere e riassunti da fare, ma deve essere il ruolo di quel mediatore capace di fare in modo che il sapere, il sapere globale, epistemologico e ontologico, possa diventare un sapere adatto all'allievo che lo deve apprendere. Le attese della società, sia in senso generale che in senso specifico, quindi non solo il ruolo dell'insegnante, ma anche le attese della società, non è l'insegnante che decide il sapere, né il sapere da insegnare, ma l'insegnante è un interprete sia del sapere, sia delle decisioni che stanno a monte. Il suo filtro critico, basato su convinzioni personali e culturali, influenza fortemente quel che giunge come prodotto finale al nostro allievo, ai nostri studenti, ai nostri ragazzi, bambini, eccetera. E quindi vedete che anche nella relazione tra allievo e sapere, il ruolo dell'insegnante è un ruolo decisamente chiave che è importantissimo saper interpretare in una maniera compiuta per fare in modo che il sapere possa essere veicolato verso l'apprendente, verso l'allievo, in una maniera adeguata ed efficace. Vediamo adesso rispetto alla relazione tra insegnante e sapere, questo verbo insegnare come viene interpretato attraverso il concetto di trasposizione didattica sviluppato da Yves Shevaillard. La trasposizione didattica è intesa come il lavoro di adattamento, di trasformazione del sapere in oggetto di insegnamento, in funzione del luogo, del pubblico e delle finalità didattiche che ci si pone, rappresenta un vero e proprio atto creativo, giacché l'insegnante deve tenere conto delle singolarità dell'allievo e della situazione reale in cui si trova a operare. E oggi guardate che questo diventa uno spunto davvero potente in relazione proprio alla didattica a distanza. Cioè, se noi non ci rendiamo conto della situazione reale in cui ci stiamo trovando a operare, che è diversa, totalmente diversa dalla situazione che abbiamo in aula, non capiamo bene come dobbiamo agire sulla trasposizione didattica per fare in modo che il nostro insegnamento diventi un insegnamento efficace anche se non siamo più all'interno dell'aula, anche se siamo lontani. Guardate, io lo dico sulla base dell'esperienza che sto portando avanti con i miei bambini, ma anche dei moltissimi confronti che ho con insegnanti di tutta Italia a ogni livello, da quelli dell'infanzia a quelli dell'università, le medie, le superiori, la primaria, chiunque, sto avendo tantissimi scambi di mail, di idee, di opinioni, e in tutti i livelli, in tutti i livelli della scolarità, ci si sta rendendo conto, un po' alla volta mi viene da dire, che non è pensabile riproporre l'orario della lezione attraverso le video lezioni. Io sto sentendo di scuole superiori che fanno l'orario di scuola con le video lezioni, che guardate, secondo me è troppo per un ragazzo, ma parliamo di ragazzi grandi. Ho sentito che anche alla scuola primaria, in alcuni casi, la mattina vengono fatte quattro video lezioni di un'ora consecutive su quattro discipline differenti, ma guardate che questo non è tanto funzionale. Gli stati attentivi dei bambini sono di 5-10 minuti al massimo, lo sappiamo. Allora, se sappiamo questo e sappiamo quanto è difficile tenere l'attenzione di un bambino quando siamo in classe, immaginatevi come sarà difficile tenere l'attenzione di un bambino che è a casa davanti a uno schermo, magari da solo perché i genitori lavorano in smart working o sono fuori casa, e quindi questo bambino da solo le ore davanti a uno schermo dove, ok, può ogni tanto parlare, può ogni tanto dire qualcosa, ma quale sarà la reale efficacia di questo? E allora forse ci conviene ridurre il numero degli appuntamenti. Una video lezione alla settimana di un'ora può essere sufficiente? Faccio degli interventi, do degli spunti su ciò su cui voglio andare a lavorare nei prossimi giorni, consolido quello che abbiamo visto negli ultimi incontri, do un feedback, vi ho già dato il feedback, correggendovi i compiti e inviandoli vi do un ulteriore feedback su come state lavorando, parlo con voi e avanti così. Quindi dobbiamo renderci conto che siamo in un mondo totalmente nuovo e che la trasposizione didattica è lo strumento che ci viene incontro, che ci aiuta per fare in modo che il nostro insegnare nella didattica a distanza sia comunque un insegnare efficace e sia comunque un insegnare che dia anche benessere agli allievi che si sentono accompagnati, che si sentono meno isolati e che percepiscono la classe, l'insegnante e la scuola ancora come un punto di riferimento reale in questo mondo così scombinato che stiamo vivendo a causa della pandemia. Allora andiamo a vedere questo verbo animare. Vedete questo verbo animare? Scrive Bruno D'amore e io l'ho riportato. È inteso animare generalmente dal punto di vista che l'insegnante crea delle condizioni, crea delle situazioni per portare il sapere verso lo studente. Però tendenzialmente questo ruolo è decisamente asimmetrico perché è sempre l'insegnante in qualche modo che veicola il sapere verso lo studente e quindi per andare maggiormente in profondità su questo lato, su questa relazione tra allievo e insegnante, possiamo proprio farci forti della teoria delle situazioni di Brousseau. Allora guardate, la teoria delle situazioni è molto articolata, prevede la situazione didattica, la situazione non didattica e la situazione adidattica. Io ora veramente per motivi di tempo in questo video non posso proporvi tutta la teoria delle situazioni di Brousseau. Cercatela, cercatela in rete con i riferimenti a Bruno D'amore, ai grandi ricercatori italiani, a Silvia Sbaraglia, a Marta Elisabeth Fandigno, ma a tanti altri insomma, anche a Rosetta Zan, Pietro Di Martino, potete trovare tanti riferimenti su questi argomenti, tantissima bibliografia. E i due, diciamo, aspetti portanti, che sono quelli iniziali della situazione adidattica, quindi rispetto alla teoria delle situazioni ora mi riferirò a quella che è definita la situazione adidattica, e il punto di partenza della situazione adidattica è quello della devoluzione, che è immediatamente seguito dal secondo passaggio, che è quello dell'implicazione. Pensate che io, quando ho curato Flip Your Classroom, la traduzione del libro di Bergman e Sams, ho aggiunto 18-20 pagine di postfazione autografa. In questa postfazione autografa, tra i vari aspetti che affronto legati alla flipped classroom, parlo anche proprio della relazione di questo costrutto didattico innovativo della flipped classroom con teorie didattico-pedagogiche più consolidate, come ad esempio la teoria delle situazioni. E in quel caso specifico, in quel volume specifico, presento tutta una riflessione dei ragionamenti sulla relazione tra lo sviluppo della situazione adidattica che Brousseau ci ha insegnato e lo sviluppo della didattica nella classe capovolta, nella flipped classroom. E se io prendo come riferimento Brousseau e la situazione adidattica e la contestualizzo in un percorso di insegnamento-apprendimento in didattica capovolta, mi rendo immediatamente conto che posso costruire un percorso flipped, davvero ben sviluppato e capace di consentire agli allievi di guadagnare il massimo apprendimento da ciò che stanno facendo. E allora vediamo cosa intendiamo con questi due termini, devoluzione e implicazione. Vedete, all'interno della teoria delle situazioni abbiamo detto per devoluzione, sempre nella situazione didattica, le altre guardatevele voi perché veramente non finirei più questo video oggi altrimenti, per devoluzione si intende quell'azione dell'insegnante verso l'allievo in cui l'allievo viene spinto dall'insegnante ad implicarsi nel progetto didattico che lo riguarda. Quindi con questo atto della devoluzione l'insegnante propone all'allievo di entrare in partnership nel percorso che viene proposto e quindi questo è il primo atto proprio la devoluzione, l'insegnante che apre verso gli studenti al fine di coinvolgerli. Nella didattica a distanza pensate questo come potrebbe avvenire, fate formulate proposte creative, cercate di sentire i vostri alunni, di contattarli, parlate con loro, lanciate delle proposte che siano belle, che siano coinvolgenti, che siano interessanti, riduciamo il numero dei contenuti che vogliamo affrontare. Lavoriamo su meno contenuti ma lavoriamo in maniera più approfondita sui contenuti e proponiamoli in una maniera coinvolgente, con questo atto potente della devoluzione che è il primo atto di apertura dell'insegnante verso l'allievo per fare che cosa? Per fare in modo che il secondo passaggio, cioè quello della implicazione, avvenga. Nell'implicazione, vedete, è l'azione dell'allievo su se stesso. L'allievo accetta la devoluzione, accetta cioè di farsi carico personale della costruzione della propria conoscenza, ma se io insegnante propongo al mio allievo un'attività banale, un'attività noiosa, oltretutto nella didattica a distanza, dove non c'è più la relazione diretta in aula, l'allievo difficilmente riuscirà a implicarsi. Quindi se io voglio sviluppare un percorso efficace dovrò, nell'atto della devoluzione, proporre un qualcosa di significativo ai miei alunni, un qualcosa che so che loro troveranno interessante e che troveranno così, che accetteranno di prendere parte in qualche modo alla sfida didattica che io gli sto proponendo, implicandosi. Quindi se la sfida è ben proposta, se il compito, può essere anche un compito, però non può essere un compito che il bambino fa sul libro, scatta la fotografia e la manda all'insegnante. Dobbiamo trovare delle formule. Lo so che per noi insegnanti è faticoso, ma se l'insegnante crea dei compiti, anche se non sa usare nessuna piattaforma, ma li manda per email ai bambini, i bambini possono scrivere dentro nel compito, lo inviano all'insegnante e poi l'insegnante restituirà un feedback puntuale. E' così che avviene la devoluzione e dall'altro lato l'implicazione dell'allievo. In questo gioco delle parti, che quando si attiva diventa una straordinaria e potente base per portare avanti il nostro percorso di insegnamento e apprendimento nel miglior modo possibile. Procediamo nella teoria delle situazioni. Il passaggio successivo è quello della costruzione di conoscenza privata, cioè ciascuno studente crea una propria conoscenza interna. C'è stato il momento della devoluzione, quello dell'implicazione, lo studente comincia a lavorare sulla nostra proposta, comincia a creare una propria conoscenza interna su un dato argomento. Il passaggio seguente è quello della validazione. L'allievo difende la propria costruzione privata di conoscenza. L'esempio che vi facevo prima, l'insegnante dà il compito, l'allievo ci scrive dentro, lo restituisce all'insegnante che in qualche modo farà delle revisioni, ma l'allievo potrà difendere la propria costruzione di conoscenza. Potrà accettare le revisioni dell'insegnante laddove si renderà conto di avere scritto delle cose non idonee, ma potrà anche difendere ciò che ha scritto prendendo una posizione, rispondendo ma io questa cosa l'ho scritta perché ritengo che sia importante in questo tema di italiano che sto facendo, non lo so. Per cui l'allievo difende la propria costruzione privata di conoscenza mettendosi in situazione esplicitamente comunicativa allo scopo di spiegare ai compagni la propria idea. Questo nella didattica a distanza può avvenire solo attraverso la video lezione di gruppo, ma la video lezione di gruppo per far in modo che ciò possa avvenire non può essere un momento in cui l'insegnante parla in maniera unidirezionale per un'ora con i propri allievi. Deve essere un momento aperto dove l'insegnante lancia delle proposte, degli stimoli e gli allievi possono intervenire e in questo modo affrontare questo atto, questo processo della validazione. Procediamo con la socializzazione. Il sapere personale viene patteggiato con gli altri, entra cioè a far parte del patrimonio comune acquisito e condiviso dall'intera classe. Questo ci rendiamo tutti conto che come il passaggio precedente nella didattica a distanza diventa un po' complesso. Possiamo sicuramente attuarlo all'interno di una video lezione, ma mi viene anche da dire in qualche modo possiamo anche attuarlo attraverso quello che di solito definisco lo sharing dei prodotti, cioè la condivisione dei prodotti. È naturale che se il prodotto è un compito va da sé, il compito è quello per tutti, ok, se parliamo di compiti standard. Ma prendiamo ad esempio il problema di matematica. Il problema di matematica io potrei promuovere verso i miei allievi l'attività di problem posing, oltre che quella di problem solving. Quindi potrebbe essere interessante far progettare dei problemi di matematica ai bambini e fare in modo che questi problemi vengano poi proposti alla classe attraverso uno scambio che può avvenire attraverso delle email, ma anche all'interno di una piattaforma se la usiamo. E quindi ci sarà questa socializzazione e non lo so, i bambini sviluppano dei problemi che naturalmente nel momento in cui li sviluppano li devono anche risolvere, li propongono all'insegnante, l'insegnante li controlla, li verifica, eccetera, quando tutti i prodotti sono coerenti e vengono condivisi con la classe e i bambini magari si trovano a risolvere problemi creati dai loro compagni e in questo modo diciamo che avviene una socializzazione del prodotto. Socializzare il sapere diventa un momento un po' più articolato che all'interno di una videolezione, di una discussione di gruppo, possiamo certamente attivare assieme ai nostri allievi. L'istituzionalizzazione delle conoscenze è l'atto esplicito che compie l'insegnante al fine di permettere ad una conoscenza costruita dagli allievi e socialmente condivisa di essere ufficialmente riconosciuta. Allora abbiamo sviluppato un'attività, diciamo prendiamo ad esempio sempre la matematica, visto che insegno matematica e mi viene più facile pensare a questo. Io ho formulato delle proposte, non lo so, sulle superfici, sulla misura delle aree, magari partendo con delle attività più empiriche, quindi non so in un quadrato di una certa dimensione, stanno dentro altri quadrati e unità di misura e ho sviluppato il lavoro rispetto ai vari punti che abbiamo visto fino ad adesso i bambini, un bambino più bambini hanno costruito diciamo la propria idea di come funziona la misura di una superficie, la misura di un'area. A questo punto ognuno avrà poi condiviso le proprie idee, ci si sarà confrontati sulle idee dei bambini nella dinamica chiaramente della didattica a distanza e poi tutto questo che vi ho detto in questo video naturalmente potrà essere applicato nella didattica in presenza senza dover sottostare ai vincoli dell'uso delle tecnologie, quindi può comunque diventare un video, una risorsa utile per chi fa il mio mestiere e cioè quello dell'insegnante. E quindi ho fatto un esempio sulla sulla misura delle superfici, delle aree e quant'altro, i bambini insomma hanno costruito le proprie idee, le hanno condivise, le hanno discusse, poi l'insegnante assieme ai bambini procede con questo momento, col momento dell'istituzionalizzazione delle conoscenze. Atto esplicito che compie l'insegnante al fine di permettere a una conoscenza costruita dagli allievi e socialmente condivisa di essere ufficialmente riconosciuta. Se nella discussione un gruppo di bambini, più bambini hanno detto ok prendendo l'unità di misura di riferimento che abbiamo stabilito il quadratino giallo abbiamo visto che nel rettangolo rosso ci sta dentro tante volte possiamo dire che la superficie del rettangolo rosso è 20 quadratini gialli. In questo modo il lavoro di ipotesi, il lavoro di creazione diciamo della conoscenza sollecitata dalla proposta dell'insegnante che è avvenuta all'interno degli allievi a questo punto viene istituzionalizzata e quindi l'insegnante conferma o smentisce. Dice ok avete proprio capito bene il quadratino giallo è la nostra unità di misura di riferimento e all'interno di questo rettangolo ci sta 20 volte. All'interno di quest'altra figura non so un rettangolo che invece che messo così in forma allungata in orizzontale è un rettangolo in piedi magari più stretto più lungo eccetera ma confrontando vedo che anche all'interno di questo altro rettangolo ci stanno 20 quadratini gialli significherà che le due figure pur avendo una diversa forma hanno la medesima superficie e questo potrà emergere dai bambini e quindi il docente lo potrà istituzionalizzare dicendo ok avete capito che prendendo come unità di riferimento la stessa unità e misurando due figure diverse otteniamo comunque calcoliamo che entrambe le figure hanno la stessa superficie e quindi avete ben compreso come funziona la misura di una superficie attraverso questa attività empirica di inserimento di unità di misura concordate e quindi vedete il momento dell'istituzionalizzazione è proprio il momento che definisce un po il sapere che è circolato che è stato condiviso tra l'insegnante e di propri allievi adesso vorrei chiudere con una riflessione proprio sulla didattica a distanza noi guardate abbiamo parlato di questo del triangolo allievo insegnante sapere adesso partiamo da questa riflessione ho sbarrato questo lato perché la relazione diretta quella d'aula tra l'allievo l'insegnante tra l'insegnante l'allievo non è possibile perché le scuole sono chiuse e quindi questo tipo di relazione diretta in questo momento è bloccata abbiamo inserito ho inserito qui un nuovo vertice l'ho inserito sopra agli altri perché non appartiene a quel triangolo della didattica che abbiamo visto però è un punto di riferimento che oggi è necessario aggiungere che è quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se ci ragioniamo un attimo passiamo da una figura piana dal triangolo della didattica in qualche modo a una figura solida a un tetraedro a una piramide a base triangolare chiamatela come volete e la cosa affascinante è che se riflettiamo su quello che vi ho proposto in questo video e questa idea che vi propongo ora vediamo come ad esempio l'allievo è vero che può raggiungere il sapere in maniera diretta volendo attraverso un libro attraverso internet insomma attraverso altre risorse non realizzate dall'insegnante ma è vero che l'allievo attraverso le nuove tecnologie raggiunge un sapere che può essere di varia natura può essere già presente su internet e quindi fuori dal nostro controllo di insegnante e questo cosa può comportare può comportare così delle difficoltà delle imprecisioni delle fonti non attendibili se invece l'insegnante veicola il sapere attraverso le tecnologie insegnante veicola il sapere attraverso le tecnologie e sempre attraverso le tecnologie questo sapere raggiunge l'allievo e quindi in questa ottica si creano si instaurano nuove relazioni per cui dovremo individuare nuovi verbi ma ora direi che non è il momento questo video è già stato sufficientemente lungo per oggi però ecco volevo lanciarvi questa sollecitazione nel senso che il triangolo della didattica allievo insegnante sapere oggi purtroppo non è più agibile come lo abbiamo normalmente agito all'interno delle nostre aule all'interno delle nostre scuole dobbiamo tenere in considerazione l'uso delle tecnologie come punto di passaggio come medium come tramite tra noi insegnanti il sapere l'allievo e gli allievi tra di loro il sapere e l'insegnante il sapere l'allievo varie forme di sapere che si possono incontrare attraverso gli strumenti tecnologici e quindi ci sarebbero ci sono moltissime davvero riflessioni da fare ciò che è importante tenere a mente è che noi insegnanti con l'atto primo della devoluzione verso i nostri allievi li possiamo coinvolgere in attività stimolanti mettiamo ad esempio vogliamo lavorare sulla lingua italiana non lo so vogliamo lavorare su delle proposte riguardo alla grammatica riguardo all'analisi logica eccetera allora noi possiamo dare per fare una proposta agli allievi la devoluzione è una proposta interessante bambini leggete questo piccolo brano non so di gianni rodari molto bello molto adatto alla vostra età molto interessante e piacevole da leggere e su questo piccolo brano faremo tutta una serie di lavori di grammatica e di analisi logica mettiamo ok i bambini si implicano i ragazzi si implicano perché il brano è piccolo è interessante sanno che poi verranno altre proposte su questo da parte dell'insegnante e cominciano a partecipare si implicano poi abbiamo visto attraverso tutti i vari passaggi cominciano a costruire la propria conoscenza di quello che c'è all'interno di questo brano di come sono messe le frasi in relazione tra loro di come funzionano fanno delle proposte le condividono col gruppo si discute ognuno ha costruito un suo sapere personale su quell'argomento viene condiviso viene validato o meno alla fine viene istituzionalizzato dall'insegnante e quindi vedete che questo processo può essere sviluppato può essere impiegato anche nella didattica a distanza stanno insegnanti impegnarsi al massimo per fare in modo che queste proposte portino i nostri allievi ad apprendere ma soprattutto li accompagnano in questo momento di grande difficoltà e contribuiscano al loro benessere prima di lasciarvi vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto dedicare a questo video così con tante proposte tante idee tutte da approfondire vi ho detto dove potete potete andare a cercare sicuramente molti materiali di approfondimento io sono su facebook come sergio vastarella sono anche su instagram sono su twitter come chiocciola ser vastarella perché tutto il nome non si stava e ho aperto questa nuova pagina facebook sergio vastarella didattica per competenze e capovolta che vuole proprio essere un luogo virtuale per far crescere la comunità educante con tante proposte tanti momenti di riflessione condivisa ho il canale youtube dove troverete questo video e vi invito a iscrivervi a questo canale perché più siamo più possiamo far circolare tutta una serie di proposte e iscrivendovi sarete anche sempre aggiornati su tutte le nuove e i nuovi video su tutte le nuove proposte che formulerò per noi insegnanti ma anche per i bambini perché nel mio nel mio canale potrete trovare anche dei video da usare direttamente con i bambini nell'attività didattica a distanza vi ringrazio di nuovo per essere stati con me spero che questo così video introduttivo sul triangolo della didattica sulla trasposizione didattica eccetera sia stato interessante e vi abbia così dato degli spunti nuovi su cui lavorare vi faccio i migliori auguri perché questo brutto momento passi e sono sicuro che se tutti noi insegnanti ci impegneremo al massimo questa bruttissima situazione che tutti stiamo vivendo ma che in particolar modo i nostri allievi piccoli tante volte stanno vivendo potrà essere un momento meno brutto meno faticoso perché sanno che noi gli siamo vicini che la scuola gli è vicina e che la loro realtà in fondo in fondo non è completamente crollata ma si è trasformata arrivederci grazie